Sono qua da Sandro Cane, sono a Luwokin, sono venuto a Luwokin perché mi sono preso tanta di quell'acqua e adesso mi sto asciugando un po' era tanto che non veniva un Oluwokiniter, una vita e allora sono venuto qua a Luwokin e adesso vediamo com'è mezzogiorno questo maiale saltato con le arachidi, questo è ancora maiale, non male eccoci qua, noi ci vediamo dopo ciao ciao ragazzi lo scooter ok, ci serve comunque una protezione per le gambe comunque dei pantaloni semi impermeabili e un giacamento impermeabile perché questa l'acqua se l'è presa tutta, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao